Un omicidio che crea ancora molte perplessità e domande, quello di Valli Urbini, l'89enne trovata morta ieri mattina a Cesena. Il corpo dell'anziana è stato trovato dal figlio, chiamato dalla donna delle pulizie, che non è riuscita a entrare dentro l'abitazione. Imbavagliata, con la faccia tumefatta da echimosi e stesa sul pavimento, all'inizio si era pensato a un malore, ma la sciarpa annodata al collo lasciava pochi dubbi. Omicidio. Ora inizia la caccia al colpevole. Diversi sono gli elementi che compongono il puzzle e altre tanti, quelli mancanti. La donna è stata uccisa alle 23 di mercoledì. L'omicida non ha forzato la porta o la finestra per entrare, quindi si pensa che si sia fatto aprire oppure aveva le chiavi. Non si sa come si è scappato dopo aver aggredito mortalmente la vittima. Dalle prime indagini sembra che a uccidere l'anziana infatti sia stato un colpo violento proferito dall'aggressore sull'orecchio che le ha fatto perdere l'equilibrio per poi cadere e svattere la testa con forza. Sul petto anche una ferita da taglierino, ma superficiale. A confermare questa versione saranno i risultati dell'autopsia predisposta dal magistrato che potrebbe avvenire entro oggi. Le indagini sono portate avanti dalla questura di Forlì che in base ai primi indizi che vedono la porta d'ingresso chiusa a chiave da dentro, si stanno concentrando sulla cerchia di amici e familiari della vittima, gli unici che possono essere stati accolti in casa oppure essere in possesso delle chiavi. L'unica cosa che è stata portata via dall'abitazione sono gli 80 euro che si presume la donna avesse nel portafogli.